Sto parlando proprio a te, a te che continua a chiedermi dove poter imparare a fare le sculture con i palloncini. A te che alle feste fai sempre il solito cane. Basta, non se ne può più. A te che fai dei palloncini che sembrano tipo i calzini di nonna. Proprio per te da oggi c'è la soluzione. La Balloon Fan Box Pro. Una elegantissima scatola che contiene una pompetta professionale, una busta con 100 palloncini modellabili Quatex, quindi i migliori in commercio, un mio poster e un DVD in italiano e in inglese che ti permetterà di imparare ben 25 figure più 2 bonus. Quindi da oggi non avrai più scusa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.